Insieme per l'Ucraina, Pineto, operatore di pace. Questo è il titolo dell'incontro organizzato nel Comune Costiero alla presenza dell'amministrazione comunale, associazioni e organizzazioni locali per affrontare il tema dell'emergenza. In particolare si è parlato di come favorire l'integrazione dei profughi che sono arrivati e arriveranno nel territorio di Pineto e delle proposte operative per la raccolta di beni di prima necessità. Per questo motivo le associazioni del territorio hanno messo in campo un progetto che riguarderà tutti coloro che vorranno prendere parte ad una grande rete di solidarietà che in questa prima fase ruoterà intorno al supermercato Solidale e la Formica. Pineto non abbiamo un dato ancora puntuale, siamo in attesa ma credo oltre 80 in questo momento, alcune strutture ricettive anche stanno ospitando, tra questi ci sono anche soggetti deboli, abbiamo anche una comunità di non udenti. Devo ringraziare anche l'Arci che in qualche modo sta facendo la sua parte in modo sensibile ed importante. Abbiamo proprio in queste ore messo insieme tutte le associazioni, le organizzazioni locali, un confronto importante con le autorità civili, religiose, con la scuola, il mondo dello sport e anche della cultura perché crediamo che adesso sia davvero importante creare un percorso di integrazione con i profughi. Parliamo di soggetti a volte anche con delle patologie perché provengono da comunità, parliamo di persone che intanto non conoscono la lingua, quindi la prima barriera è quella della comunicazione. Parliamo di soggetti che arrivano col dramma della guerra, quindi con immagini degli occhi che sono difficili da cancellare, soprattutto nei bambini. Ed è il motivo per cui io ringrazio le società sportive, la scuola che da subito hanno creato un clima di serenità e di grande accoglienza. Credo che questo sia il compito delle istituzioni e delle associazioni e di tutte le comunità in questo momento. Ovviamente speriamo tutti che questa guerra possa finire al più presto, non sfugge a nessuno che l'accoglienza non sarà un qualcosa che durerà poco ma durerà un po' di tempo anche oltre la guerra perché molte delle città, se pensare a Mariupol, dove purtroppo non vi sono più case e quindi anche i tempi di ricostruzione non saranno brevi. Credo che ognuno in questo momento debba fare la propria pace, auspicando la fine della guerra.